Bruna, razza da formaggio. La Bruna italiana è oggi presente nel nostro paese con più di 400.000 capi, dei quali 117.000 iscritti al libro genealogico, distribuiti in 6.200 allevamenti. Grazie ad un accurato lavoro selettivo, le sue attitudini casearie sono state esaltate per rispondere alle specifiche esigenze legate alla trasformazione, tipiche della realtà nazionale. È una razza da formaggio capace di garantire rese casearie superiori alla media. La Bruna è diffusa in tutta Italia, sia nelle aziende di montagna che di pianura, dalle malghe del Trentino Alto Adige alla Lombardia, dal Piemonte al Veneto, dall'Emilia Romagna alla Puglia, senza dimenticare Sicilia e Sardegna. Il miglioramento della popolazione ha permesso di ottenere produzioni medie di 7.155 kg con il 2,85% di caseina e oltre il 3,55% di proteina. Elevati sono i livelli di K caseina e beta caseina, frazioni proteiche particolarmente interessanti sia per la produzione di formaggi di pregio sia per la salute del consumatore. Per valorizzare il suo prezioso latte è stato anche costituito il Consorzio di Sola Bruna, che tutela i formaggi monorazza prodotti utilizzando esclusivamente il latte di vacche brune iscritti al libro genealogico e che vede nel Parmigiano Reggiano di Sola Bruna una delle sue eccellenze, a garanzia del territorio, della tracciabilità e del consumatore finale. Grazie a tutti.